Una delle domande che mi viene posta più frequentemente dai miei clienti riguarda il momento ideale per acquistare un nuovo computer. Solitamente rispondo che purtroppo nell'arco dell'anno non ci sono periodi fissi, a differenza di quanto accade per esempio per i saldi di abbigliamento, perché quello che va a comporre il prezzo finale di un computer sono una pluralità di fattori. Tanto per cominciare ci sono le oscillazioni del dollaro che con le sue fluttuazioni può andare ad impattare anche abbastanza pesantemente sul prezzo complessivo di un computer. In secondo luogo bisogna guardare i costi dei componenti più costosi, ovvero di solito il processore è la scheda video. Ebbene, questo periodo dell'anno stranamente è un periodo estremamente favorevole per l'acquisto dei nuovi computer perché sto assistendo ad una discreta discesa dei prezzi. Ma si tratta in realtà di un anno estremamente particolare per cui non bisogna, a mio personalissimo avviso, lasciarsi allettare da questi prezzi estremamente favorevoli e per un motivo molto ma molto ben preciso. Andiamo a vedere quale. Ti senti pronto? Iniziamo. In questo periodo stiamo assistendo letteralmente ad un florileggio di notizie informatiche, purtroppo non solo, estremamente particolari. Prese singolarmente tuttavia la loro peculiarità si esaurisce lì. Quello che invece mi sono divertito a fare è stato tirare delle linee tra l'una e l'altra e unire i vari puntini. Ebbene, il quadro d'insieme che ne è il risultato è stato un quadro estremamente preciso e che, come vedremo a brevissimo, ci coinvolge tutti quanti e ci tocca molto ma molto da vicino. E allora, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Partiamo da questa notizia datata addirittura 18 luglio 2023, in cui si iniziava a parlare per la prima volta dei processori Intel di quindicesima generazione. Vi risparmio tutto quanto l'articolo, ma quello che ci può interessare maggiormente è sicuramente la frase finale. Se andiamo infatti a guardarla, vediamo che l'articolo si conclude dicendo che in ogni caso possiamo immaginare che la quindicesima generazione di processori Intel, che non è ancora uscita ma sta per uscire, farà un bel balzo in avanti rispetto alla tredicesima, mentre la quattordicesima generazione, che è quella attualmente più nuova in commercio, sembra che sarà semplicemente un miglioramento della tredicesima generazione senza eccellere particolarmente. E fin qui tutto bene. Ed infatti appena usciti i processori di quattordicesima generazione sono stati accolti dagli utenti che li hanno provati con dei commenti che definire freddini sarebbe eufemistico. Ricordano per i loro consumi elevatissimi da centrale nucleare e per il loro incremento di velocità davvero molto relativo un qualcosa di decisamente diverso. Ed infatti il mio primo consiglio a questo punto è se proprio sei costretto ad acquistare un computer oggi acquistalo con un processore di tredicesima generazione, in quanto il rapporto prezzo qualità è decisamente più favorevole nei confronti di quest'ultimo. Ed infatti sono arrivati i primi leaks, ovvero le prime notizie sotto banco relative ai processori Intel di quindicesima generazione e a quanto pare questi rappresenteranno davvero un salto di qualità epocale rispetto a tutti quanti i processori precedenti. Ma in realtà non è questo il punto focale del nostro video di oggi. Ti ricordi questo articolo? Ne abbiamo parlato nel video del 17 gennaio scorso. Te lo lascio qui in alto in descrizione se vuoi dargli un'occhiata. Ebbene si parlava del fatto che non sarebbe più uscito Windows 12 ma che sarebbe stato sostituito dalla versione 24 h2 di Windows 11. Ebbene nel frattempo è successo qualcosa di nuovo. Scusate sapete che è successo? E se sapevo che si è successo non stavo qua a perdere tempo. No lo so, volevamo solo sapere di che si trattava. Sì sì. Anche io voglio sapere di che cosa si trattava. Adesso ci infiltriamo così lo sappiamo tutti quanti. Leggendo infatti questo articolo scritto direttamente, attenzione, da Microsoft che riguarda la funzione di elencazione dei driver installati nel nostro sistema, scendendo un pochino più in basso ci imbattiamo in una frase molto particolare che dice che a cominciare con Windows 11 versione 24 h2 accadranno una serie di cose che per il momento non ci riguardano affatto ma che vanno implicitamente a confermare seppur per vie traverse l'esistenza appunto di un Windows 11 24 24 h2. Ebbene, come puoi vedere lo stesso dettaglio non è sfuggito a tutte le principali riviste di settore che titolano tutte quante la stessa cosa, ovvero che Windows 11 24 h2 è confermato e che Windows 12 sicuramente non vedrà la luce. Ma la domanda che ci interessa davvero è questa, ovvero che cosa cambierà nei nostri pc? Un pochino lo sapevamo già ma la notizia viene mano a mano sempre più confermata, ovvero che per far girare la versione 24 h2 di Windows 11, cui dovremo bene o male tutti quanti aggiornare i nostri sistemi anche per questioni di sicurezza, saranno necessarie delle caratteristiche in termini di risorse hardware estremamente esuose. Spendiamo un po' più in basso in questo articolo, simile peraltro a moltissimi altri che ti ho già mostrato nel video del 17 gennaio, che ci informano che Microsoft si sta focalizzando su due aspetti, ovvero la quantità di RAM e la performance dei processori. E questo perché a quanto pare verranno implementate una serie di funzionalità per cui sarà richiesto a tutti quanti quelli che vogliono far girare Windows 11 24 h2 di avere dei cosiddetti AI PC, ovvero dei pc appositamente predisposti per far girare queste nuove funzionalità e che probabilmente avranno a bordo anche dei chip dedicati. Ed infatti quasi in concomitanza con l'annuncio di Microsoft di voler uscire con questa versione di Windows 11 24 h2 incentrata sull'intelligenza artificiale, la stessa Intel ha iniziato a spingere sull'acceleratore proponendoci i nuovi processori con la AI integrata. Coincidenze? Io non credo. Ed infatti alle coincidenze non ci credo nemmeno io, devo dire. Per cui chi acquista un pc in questo periodo a mio avviso rischia di fare la stessa fine che hanno fatto tutti coloro i quali hanno acquistato un nuovo pc subito prima che uscisse Windows 11 e a cui è stato risposto come al solito non è possibile eseguire Windows 11 in questo pc perché ad esempio non avevano il Secure Boot o il TPM 2.0. Insomma passi per il discorso della RAM ma acquistare un processore in questo periodo rischia di diventare per tutta questa serie di motivi un vero flop. Ed infatti a parziale riprova di quanto abbiamo appena visto c'è stato un discreto calo delle vendite dei processori e di tutto quanto il mercato dei chip con una previsione di ripresa a metà anno. Metà anno vuol dire anche il periodo in cui ci sarà il famosissimo Computex di Taipei in cui verranno presentate moltissime novità tecnologiche e molto probabilmente stiamo aspettando quel periodo anche per conoscere le nuove specifiche di tutti quanti quei processori che andranno poi a riversarsi non solo nel mondo dell'informatica ma anche in altri mondi collaterali come ad esempio quello degli smartphone oppure quello delle automobili di nuova generazione che andranno ad implementare tutti quanti l'intelligenza artificiale. Per cui in base alla mia chiave di lettura acquistare un pc in questo periodo significa andare incontro al rischio potenziale di ricevere la solita pedata da Microsoft. Se vuoi la mia opinione sicuramente anche in questo caso ci saranno dei modi per installare ed utilizzare Windows 11 pur non avendo tutte quante le caratteristiche richieste da Microsoft. Ma a parte il problema delle performance secondo me dobbiamo iniziare ad interrogarci un po' più seriamente di come abbiamo fatto fino ad ora per quanto concerne l'intelligenza artificiale. È chiarissimo che ormai l'intelligenza artificiale c'è e qui per rimanere e quindi molto probabilmente nel mondo del lavoro soprattutto ma anche a livello domestico dovremo imparare a farci i conti e molto probabilmente sarà più utile per tutti quanti noi imparare ad utilizzarla per bene e volgerla al nostro vantaggio piuttosto che subirla come una tecnologia avversa. E siamo arrivati al momento dei ringraziamenti che quest'oggi sono tutti per Fabio Mazza che si è appena abbonato al canale e quindi è per me un onore darti il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini e per il nostro carissimo amico Davide Barraco che ci ha voluto regalare un altro super grazie di cui a nostra volta gli siamo estremamente ed infinitamente grati. Grazie ad entrambi ragazzi per il vostro affetto e per il vostro supporto. Ma manca ancora un ringraziamento che come sai è sempre quello destinato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!